Bentornati nel canale La Vita Curiosa. Prima di iniziare questo nuovo video clicca su Mi piace e iscriviti al nostro canale. Le recenti rivelazioni di Albano sulla sua passata storia d'amore inevitabilmente sollevano interrogativi riguardo al suo attuale rapporto con Nomina Kawa. L'intervista del cantante alla rivista Oggi ha sconvolto tutti, poiché ha gettato luce su un aspetto inaspettato. Entrambi hanno indossato una maschera per il bene dei loro figli, ma hanno commesso l'atto di mentire per molti anni. Ciò porta alla domanda, qual è la verità ora? Albano e Romina Power si sono davvero riavvicinati? Tutto o quasi tutto è stato reso pubblico, ed è naturale che ora desideriamo conoscere la verità. Le insinuazioni di gelosia di Loredana Lecciso nei confronti dell'ex moglie del cantante, i sorrisi maliziosi di Romina, i suoi post, le parole espresse e non dette, insieme alle reazioni di Albano, tutto prende forma. Tuttavia, rimane ancora un dubbio sulla coppia che in passato rappresentava un autentico simbolo di Cellino San Marco. Albano ha costantemente difeso Romina Kawa, commentando che la sua ironia è rimasta immutata e che non è colpa sua se la relazione con Lecciso è giunta al termine. In questa ultima intervista, gli viene posta la domanda cruciale, quali sentimenti lo legano oggi a Romina? Il cantante pugliese è ora libero di esprimersi, e i suoi figli sanno tutta la verità, sanno che tra Albano e Loredana Lecciso non solo la relazione è finita, ma è giunta al termine quando i loro figli erano ancora molto piccoli. Ora, Albano può parlare apertamente dei sentimenti che lo legano a Romina. Inoltre, spiega le ragioni che lo hanno spinto a dare all'ex moglie un'ulteriore possibilità. Avrebbe potuto rifiutare l'opportunità di seppellire i rancori e le incomprensioni del passato, ma ha scelto di concedere questa opportunità, pensando ai tre figli, segnati dalla scomparsa della loro amata sorella maggiore e dalla drammaticità di una lite senza fine. La sua gioia sta nel veder nuovamente i genitori uniti. Quindi, cosa c'è ora tra Albano e Romina Power? C'è il sollievo di una pace ritrovata, la gioia di vederla serena e condividere il ruolo di nonni, oltre a un profondo affetto. Null'altro. Albano conclude affermando che nel suo DNA sono iscritte l'inquietudine, l'orgoglio e la ricerca di radici, ma da cui fugge l'instabilità. Questo carico emotivo è eccessivo per il suo cuore stanco. È difficile, ma dobbiamo credere alle sue parole, nonostante la rivelazione che la verità è stata celata a tutti per ben 15 anni. Grazie di aver visto il video e rimani sintonizzato per non perderti le prossime novità.